Siamo in Piazza Brà, oggi è il giorno in cui abbiamo iniziato quello che è un processo di sostituzione di tre piante che erano a rischio crollo all'interno dei giardini di Piazza Brà. Una perizia che abbiamo eseguito tramite AMIA ha dimostrato appunto che c'erano queste tre piante, una anche più importante, che avevano delle criticità dal punto di vista statico. Abbiamo così provveduto a installare questi cartelli informativi prima della sostituzione delle stesse in cui con allegato al QR code la perizia e la scheda WTA abbiamo dimostrato le motivazioni che hanno portato alla sostituzione di queste piante. Sostituzione che avverrà già nei prossimi giorni e che qui comporta ad avere questi giardini con due nuovi 5V Loba, un Cettis.